ci sono delle volte in cui il meglio e il peggio di una qualche cosa di una qualche situazione è come si incontrassero come gli estremi di un segmento che toccandosi provocassero come la chiusura di un cerchio ed è quello che mi è sembrato di osservare sabato l'altro ieri quando una mattinata cominciata malissimo con un codazzo velenoso di quella che è la lotta tra carlo calenda il resto del mondo che abbiamo visto accadere negli scorsi giorni si è manifestata in modo veramente virulento e volgare e poi invece con un bellissimo evento che abbiamo organizzato con l'isanoia sabato appunto qui a milano dal titolo pensiero liberale diritti della persona che è stato forse la politica vista nella sua migliore forma con intelligenza e passione ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi che il 17 aprile 2023 io sono ivan scalfarotto questa è la versione di ivan e noi andiamo a incominciare io sono ivan scalfarotto e questa è la versione di ivan una storia ogni giorno da lunedì al venerdì rigorosamente dal mio punto di vista sabato mattina la giornata era cominciata veramente molto molto male in particolare quando carlo calenda dopo aver fatto uscire un'agenzia nella quale spiegava di aver detto i suoi che bisognava entrare in silenzio stampa inopinatamente postava un messaggio su facebook messaggio che cominciava con queste parole nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia rinvia giudizio condanne pur avendo ruoli di responsabilità non ho accettato soldi e titolo personale da nessuno tanto meno da dittatori e autocrati stranieri in pratica tutto il contrario di quello che abbiamo predicato in questi mesi tutto il contrario della politica liberal democratica riformista e garantista che c'eravamo impegnati a rappresentare in parlamento nel paese il leader di quello che doveva essere il nostro partito che appunto brandisce avvisi di garanzia condanne che accusa un po alla travaglio persone di essere al soldo di autocrati stranieri una cosa da veramente uscire fuori di testa devo dire la verità e soprattutto una cosa molto deprimente nel senso che va bene l'eliti va bene il progetto del terzo polo che si infrange su una questione procedurale e non su una differenza sostanziale di merito però vedere trascinati nel fango tutti i nostri sforzi il lavoro di questi mesi l'alleanza fatta poi francamente veniva anche da chiedersi ma scusa se il problema per te erano gli avvisi di garanzia o le conferenze all'estero ma insomma lo sapevi da prima cioè non è che a settembre dell'anno scorso le cose fossero diverse e devo dire che siamo stati tutti un po avviliti da questa cosa io credo che la nostra comunità sui territori veramente già sconcertata dalle cose che erano successe nei giorni scorsi davanti a questo messaggio abbia registrato un collettivo crollo delle braccia verso il terreno non so come altro dirlo e per me sabato tra l'altro era una giornata importante perché avevamo con la mia amica e collega lisa noia da tanto tempo organizzato un evento a milano di cui vi ho parlato abbastanza spesso in questo podcast ed eravamo proprio nell'immediatezza di questo evento che avevamo comunque deciso di mantenere perché quando appunto nei giorni scorsi alla fine si era capito che ormai non c'era più niente da fare e che il partito nuovo era tramontato insomma il progetto era naufragato ci eravamo anche interrogati sull'isa con lisa su cosa convenisse fare e abbiamo convenuto insieme che quell'evento doveva andare avanti noi pensiamo pensavamo che fare politica in fondo è l'ultima cosa alla quale possiamo aggrapparci no quando tramontano o si infrangono i contenitori non ti restano che i contenuti e tra l'altro il contenuto di questo nostro convegno il cui titolo era pensiero liberale diritti della persona era un contenuto alto e anche un contenuto che ci stava estremamente a cuore lo avevamo pensato il convegno come una sorta di contributo alla scrittura del manifesto del nuovo partito tra l'altro sia lisa che io eravamo stati designati da Italia Viva a far parte della commissione che avrebbe scritto il manifesto e peraltro Teresa Bellanova che pure sarebbe venuta a Milano sabato sarebbe stata il nostro capo squadra in un certo senso perché era stata individuata da Italia Viva come appunto il capitano di questa squadra di questo drappello di redattori del manifesto dei valori del nuovo partito e Teresa appunto sarebbe venuta anche lei lì da noi abbiamo deciso di farlo e abbiamo fatto bene poi devo dire la verità perché il nostro evento è andato molto bene avevamo una sala enorme e vi confesso che quando si prenota una sala molto grande hai sempre il timore di non riuscire a riempirla e invece c'era tantissima gente e siamo stati molto contenti dell'affluenza siamo stati molto contenti anche della formula che abbiamo utilizzato perché abbiamo deciso di far aprire il convegno la nostra assemblea da quattro studiosi indipendenti quindi quattro persone che non necessariamente votano diciamo così hanno votato per il terzo polo ma che sono riconosciute per la loro autorevolezza e abbiamo individuato una giurista Maria Lisa D'Amico che è ordinaria di diritto costituzionale all'università statale di Milano che ha dato un contributo molto importante perché ci ha raccontato come la nostra Costituzione individui i diritti e le libertà delle persone e anche come nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale i valori della nostra carta fondamentale siano cresciuti col tempo, si siano evoluti abbiano tenuto il passo anche con le novità, con quello che è successo nella società e che ovviamente negli ultimi 85 anni ha segnato delle nuove cose che i nostri costituenti non potevano certamente immaginare e Maria Lisa devo dire ci ha anche richiamati all'attenzione del fatto che non basta la giurisprudenza della Corte Costituzionale ma è sempre importante che sia il legislatore a tenere il passo con la società non può essere soltanto il più alto organo giurisdizionale del Paese, la Corte Costituzionale a decidere deve farlo la politica, la democrazia, quindi ci ha messi anche un po' in guardia rispetto a questo poi hanno parlato Massimiliano Panarari che è un sociologo della comunicazione che ci ha fatto un bellissimo quadro di quella che è la situazione dei diritti nella nostra società tenuto conto appunto delle evoluzioni della medesima Chiara Lalli che è una bioeticista che ha parlato di temi importanti legati appunto alle libertà e anche alle resistenze talvolta immotivate che la società o comunque la politica frappone rispetto al godimento dei diritti e delle libertà individuali per esempio Chiara ha spiegato che talvolta ci sono dei divieti che vengono basati sul moralismo o sul paternalismo e cioè ti vieto questo per il tuo bene o ti vieto questo perché non mi piace perché è sbagliato e ha come dire messo in crisi un po' questo tipo di divieto basato su elementi che sono di fatto soggettivi e non possono essere assolutizzati e poi c'è stato Salvatore Natoli che è un importantissimo filosofo che ci ha appunto aiutati proprio a capire qual è l'impatto delle decisioni individuali anche nel nostro mondo relazionale e quindi è stato un bellissimo modo di segnare appunto di tracciare il campo da gioco con queste quattro belle intelligenze che sono state veramente una boccata d'aria e poi c'è stato un grande dibattito con tanti colleghi parlamentari e ex parlamentari dirigenti di Italia Viva che sono intervenuti dicevo prima di Teresa Bellanova ma abbiamo avuto poi video o interventi in persona di moltissimi colleghi da Lella Paita a Roberto Giacchetti e insomma veramente tantissime persone Silvia Fregolent, Gennaro Migliore, Luciano Nobili, Massimo Ungaro insomma faccio fatica a nominarli tutti ma vorrei veramente ringraziarli insomma è stata una bellissima giornata io credo che è davvero la strada che noi dobbiamo percorrere tenere conto che siamo una comunità che non vuole archiviare un progetto politico così importante e che ha tantissime cose da dire come quelle che abbiamo sentito sabato e che continueremo a dire anche prossimamente io mi fermo qui e vi do appuntamento domani la versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo chcippi 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 chcippi